Christian Brega, Bomber Rosso-Blu, 10 gol in campionato, 4 gol in Coppa. I tifosi ti hanno già fatto un coro personalizzato, te l'aspettavi? No, fa sempre piacere vedere, anzi prima di tutto, avere i tifosi in una categoria così. E poi insomma vedere che comunque credono in me, tutti credono in particolar modo quando fanno il coro, insomma queste categorie qui non se ne vede da nessuna parte, quindi è sempre bello. Ecco oggi avevi sulle tue tracce il nuovo difensore rosignano che mi è sembrato un giocatore molto valido, hai fatto un gran lavoro di sponda e gioco con granito e poi è venuto l'1-0 e poi tante altre occasioni dove potevate fare il 2, il 3, il 4-0. Diciamo che il nuovo difensore di loro è abbastanza spigoloso, infatti mi fa male da tutte le parti. Sì, no, e con Gianni insomma la intesa è sempre stata, c'è sempre stata una bella intesa fin dai primi allenamenti, quando è bastato due o tre allenamenti per capirci solo con lo sguardo. Quindi insomma mi ci trovo bene sia a tre davanti che a due, quindi insomma speriamo di continuare così tutte e due che poi si tirano le somme alla fine. Ecco, molti addetti lavori in estate dicevano che tu e Granito non eravate compatibili per giocare insieme, avete risposto con 20 gol in due. Qual è il vostro obiettivo se lo siete predisposto uno dei due? Evidentemente chi diceva così non credeva a noi, chi ci ha preso ci ha creduto e quindi insomma si sta dimostrando che si può giocare benissimo insieme, anzi ci compensiamo quindi perché non siamo assolutamente uguali. E niente, no, non ci aspettavamo assolutamente di iniziare così, insomma, soprattutto come singoli ma anche come squadra. Si sta facendo un bel campionato, a parte la parentesi di Lucca, dove ci è andata anche bene diciamo. Quindi diciamo che anche ci ha servita per il proseguo del campionato e penso che si stia dimostrando partita dopo partita. Ecco, come ha detto prima il mister, ora iniziano un mese dove ci sono quattro partite di campionato e una di coppa, tutte importanti. E poi il 22 dicembre si tireranno le somme. Siete pronti a far bene come state facendo da queste ultime partite? Io penso che con le squadre dove magari sono più attrezzate io penso che si esprima meglio il nostro gioco perché magari non ci fanno anche abbastanza giocare e quindi ben vengono queste partite anche perché sono belle partite e noi comunque bisogna pensare solo a noi perché se si gioca come sappiamo penso che insomma i valori sono dalla nostra parte. Bene, grazie, in bocca al lupo a Cristian Brega.